yeah yeah come sempre il santo back in Sbj comunque in giro per l'italia vedo dei diciamo dei movimenti dei cose che a me non piacciono molto vedere i gruppi organizzano concerti sono dei metodi diciamo così mafiosi fanno suonare solo i conoscenti solo quelli che conoscono solo quelli che spingono anche se sono pippe spesso sono pippe quasi sempre sono delle pippe diciamoci la verità fanno il loro piccolo giro di stronzetti che si spingono a vicenda una piccola madre diciamo così a me questo tipo di atteggiamento mi fa abbastanza ridere pure schifo vuol dire che sei un pezzente c'è paura della tua della tua fettina di torta che poi è magra magrissima morto di fame comunque fate la cosa cosa mafiosa che vi aiuta da vicenda cioè cose scrause cose scrause che non si dovrebbero vedere soprattutto nell'hip hop il pop è puro il pop è pulito non lo sporcate non lo sporcate con comportamenti indegni un sacco di rapper talentuosi in giro spaccano più del tuo entourage del tuo roaster e questo vattene una fanculo qui sempre maximus santo knowledge drop knowledge you know straight up fuck you bitches faggots comunque proseguiamo i pezzi peace ciao